Una domenica da ricordare per Fabrizio e Alice che nella chiesa di Santa Maria a Pigli hanno detto il loro sì. Fabrizio, Angiulli e Alice e Rosi si sono sposati nella bella location alle porte della città di Arezzo, domenica 16 luglio alle 11.30. Fabrizio, prezioso collaboratore dell'Ottica Franchini e noto DJ con il nome di Flick, ha radunato attorno a sé nel giorno più importante circa 200 persone tra amici e parenti. Una cornice, quella della collina di Santa Maria a Pigli da Favola, dove l'atmosfera bucolica si intreccia con la bellezza della natura toscana, per incorniciare un ricordo senza tempo. Gli sposini sono adesso in partenza per il viaggio di nozze alle isole Hawaii. A Fabrizio e Alice i migliori auguri da parte della redazione di Arezzo TV.